Quando vengono arrestati Giuseppe e Filippo Graviano a Milano, i carabinieri apprendono l'esistenza di un personaggio chiave della storia. Salvatore Baiardo per anni infatti ha ospitato, portato in giro, nascosto sotto falso nome, i fratelli Graviano. Il procuratore Vigna mi chiese di andare con lui nel carcere di Bustarsizio per un colloquio investigativo con un detenuto, un certo Baiardo. I due boss si sarebbero trasferiti in Sardegna. Secondo le informazioni di Salvatore Baiardo, alloggiavano in una villa situata a Punta Volpe. I linei d'aria erano 200 metri dall'ex presidente del Consiglio, 200 metri. Ma da quello a dire si conoscevano, si frequentavano, c'è di mezzo il mare veramente. Ebbe l'impressione che Vigna abbia ritenuto attendibile il Baiardo. Ci disse che uno dei due fratelli, quando doveva fare qualche telefonata, si allontanava per non far ascoltare il contenuto al Baiardo e lui ebbe l'impressione che parlasse con qualche personaggio importante.